Senta, poi fate dei tagli indiscriminati su tutto, sulla scuola, le forze dell'ordine, no, che dai, che dai, la cultura, l'altra volta avete tagliato il teatro lirico, stavolta direttamente il fondo unico per lo spettacolo. Ma ancora quella roba del taglio del fondo del teatro lirico, questa roba del teatro lirico in Italia deve finire perché questa è una roba corporativa, perché se voi andate al teatro lirico fanno sempre la stessa roba, o ti fanno la storia di quello, come si chiama, il portatore di handicap, il trigoletto, trigoletto, che tutti gli anni è portatore di handicap, oppure mi fanno la storia di quella bandracken che tutti gli anni mi va a morire di tisi, la traviata, brava, e io vado, sono milioni che costa questa roba, è sempre la stessa bandracka che muore di tisi, basta, in ogni caso noi non vi togliamo nulla, vorrei dire una roba, se c'è qualcuno che ha la curiosità di sapere se anche quest'anno la bandracka è morta di tisi, c'è un numero verde! Grazie! 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 Grazie!